Oggi è il 15 gennaio, il mio 22esimo compleanno. Ma tu lo fai ogni anno? Volevo ringraziarvi a uno a uno, però ho pensato che ci poteva essere un modo più intimo e allo stesso modo collettivo per condividere il compleanno con voi. Grazie per i vostri obiettivi. Oggi è il 15 gennaio 2011 e il compleanno di Fraud, 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 Fraud. Basta! Volevo ringraziare di presenza a tutte le persone che mi hanno fatto gli auguri, che non me lo aspettavo. E quindi niente, passo allo studio, ciao! Ho pensato che il modo migliore per festeggiare il mio compleanno era per indire un bicicletta. Una cosa che ho capito di questo compleanno è che il migliore regalo è la presenza delle persone. No, 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 no. Però non lo so mai, è questo che ho ricevuto. Fammi dire qualcosa di poetico. Che è meglio un culo gelato che un gelato nel culo. E siamo tutti ricchioni col culo degli altri. Per esempio. Ci sarà training per i miei next two. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora il predello, sono le 4 di notte. Compleanno è ufficialmente finito. Ehi, fine il compleanno di Fran! Ehi! Vai vecchia! Qualcuno ha detto che la bici mi porterà lontano. Io non lo so se è vero. Però mi ha portato fino a qua. Allora, noi facciamo un coro, buon anno e sogni due. Era buon compleanno, non buon anno. Un proseguimento con la tua storia.